Ha sviluppato esperienze in campo manageriale sulle nuove tecnologie, ha diretto l'Istituto Gramsci. E ti farei una domanda specifica, cioè il recente dibattito sulla cosiddetta intelligenza artificiale, sospinto anche dall'introduzione del Large Language Models, ha proiettato meraviglie e inquietudini sul tema del lavoro umano. Posso che una risposta definitiva non possiamo certo fornirla qui, però siamo in grado di darci almeno un metodo per ragionare su questo tema del lavoro umano? Non facilissimo, ma si può fare un tentativo abbassando di molto il livello della discussione che è stata fatta fin qui. Naturalmente, come sempre, quando si tratta di parlare del nostro futuro, il futuro dell'umanità, ci troviamo a dividerci tra apocalittici e integrati. Già abbiamo avuto un piccolo saggio di questa dicotomia, no? E servendoci del mito potrei dire che gli apocalittici in qualche modo vedono nell'intelligenza artificiale l'altro mito, il mito di Edipo, no? Tipo che uccide il padre, l'intelligenza artificiale che distrugge in qualche modo la nostra umana intelligenza, no? Ci mangia sostanzialmente un crono al contrario. Invece ci sono coloro che vedono nelle applicazioni possibili dell'intelligenza artificiale possibilità di crescita delle potenzialità umane. Dove sto io? Ma io credo di stare un pochettino nel mezzo, ma più in basso, molto più in basso. Mi interrogo in particolare di che cosa ne sarà probabilmente del lavoro umano inteso come occupazione, cioè come possibilità di lavorare. E se devo applicare un metodo per riuscire a prefigurare che cosa ne potrà essere dell'impiego delle persone nel mondo del lavoro a causa o per causa dell'intelligenza artificiale, sento che sarebbe importante applicare un metodo di tipo storico, appunto. se pensiamo anche soltanto a quello che è accaduto nell'ultimo secolo, secolo e un po', dal punto di vista dell'applicazione delle tecniche all'industria quindi da quando è nata l'idea di trasformare in tecnologia quella cosa che, citando Primo Levi, è il ragionare con le mani, cioè il lavorare intelligentemente utilizzando strumenti di tipo tecnico vediamo che non è stato mai un percorso lineare, molto spesso l'utilizzo di nuove tecnologie o nuovi modelli organizzativi quindi ha provocato un incremento grandissimo nella produttività in senso lato, no? Pensiamo soltanto a che cosa è stato il fordismo, cioè l'utilizzo di una tecnica organizzativa e di macchine che aumentavano l'automazione del lavoro per incrementare la produzione e quindi la produttività assoluta del sistema industriale americano degli anni 10-20 e quindi il numero di occupati nell'industria automobilistica in quelle annesse e connesse a Monte e a Valle ma nel contempo si stava depauperando in maniera drammatica la parte produttiva agricola, l'occupazione nelle miniere e così via dopo alcuni anni si è riscontrato, a parte che c'è stata in mezzo una grandiosa crisi mondiale dal punto di vista economico oltre alla guerra, si sono riequilibrate le sorti, i settori industriali, agricoli e terziari hanno trovato un loro migliore equilibrio e questo è successo in diverse fasi di tutto questo secolo passato quando negli anni 80-90 il digitale è esploso tra virgolette all'interno del nostro mondo, nel mondo del business abbiamo cominciato a interrogarci su che cosa sarebbe successo con l'utilizzo dei computer e ci siamo in parte spaventati pensando che molti lavori e quindi molte persone occupate avrebbero dovuto adeguarsi a questa innovazione e molte non sarebbero state in grado di farlo eppure il digitale ha dato luogo, ha reso possibile la creazione di nuovi tipi di lavoro, di nuovi job come si suol dire e ha creato una possibilità di occupazione in un settore diverso, nel settore terziario se uno guarda alla rappresentazione grafica delle statistiche della suddivisione del lavoro tra industria, agricoltura e terziario vede che il terziario cresce, l'industria in parte si stabilizza e in parte decresce, l'agricoltura quasi scompare dal punto di vista occupazionale quindi quando l'innovazione tecnologica è finalizzata a incrementare la produzione può anche essere capace di sviluppare occupazione quando l'innovazione tecnologica è finalizzata a sostituire il costo del lavoro con le macchine che rendono più produttivo in assoluto il sistema ma non rendono utile l'utilizzo di anche un solo lavoratore in più l'occupazione decresce nel corso del tempo c'è sempre stata una discreta stabilizzazione di questi basi comunicanti ci sarà ancora quando i sistemi fortemente automatizzati saranno la regola e questo tra l'altro ci induce a pensare che l'intelligenza artificiale è sì un fenomeno nuovo ma è un fenomeno atteso in qualche modo in fondo l'intelligenza artificiale mi spiace di abbassare così tanto il livello ma mi sembra che sia uno straordinario, fortissimo sistema di problem solving di capacità computazionale, elaborativa e così via ma non è un sistema che finora si è dimostrato in grado di sostituire realmente creatività capacità, esperienza, capacità innovativa che è tipica del pensiero umano almeno non fin qui vedremo che cosa saprà fare ma quando si dice che già adesso appunto non lo so un sistema di mailing ci riesce a discriminare tra lo spam e i messaggi autentici diciamo pure che non sempre ci riesce quanto spam entra nelle nostre caselle di posta elettronica e quanto non spam va a finire nello spam quindi calma e gesso direi utilizzando un'espressione raffinata e anglofona quello che voglio dire è che quello che probabilmente sta per accadere è quello che sempre probabilmente stava per accadere e come dice Francesco siamo costretti ad accettare un sistema che potrebbe anche avere, presentare un rischio fortissimo di sconvolgere completamente il mondo del lavoro aumentare sì la produttività ma degradare il lavoro umano anche quello che fino adesso abbiamo chiamato lavoro intellettuale il lavoro della conoscenza oppure siamo in grado di intervenire e scegliere perché non tutte le tecnologie che sono state inventate e considerate d'avanguardia e l'unica strada possibile eccetera eccetera si sono rivelate come le migliori pensiamo a tutta la storia e il dibattito attorno all'energia nucleare non mi voglio addentrare su questo però direi che è un buon esempio di quello che non è certo nello sviluppo scientifico e tecnologico e in ogni caso visto che comunque sia questo prodotto della mente umana che è l'intelligenza artificiale sta comunque entrando nel mondo della produzione a grandi passi e sicuramente provocherà come le altre grandi innovazioni una redistribuzione che non ci renderà più uguali a prima cioè un cambiamento che non ci renderà più uguali a prima è una redistribuzione delle possibilità di lavoro per la massa dei lavoratori dobbiamo restare qui ad acquisire questo evento come un evento dato io direi di no la mano invisibile del mercato non risolverà da sola il problema degli squilibri, delle diseguaglianze, della povertà che questi sistemi potrebbero indurre quindi bisogna che la politica e la coscienza civile intervenga su questi fenomeni e non c'è bisogno che ci venga insegnato dalla macchina che cos'è la macchina è importante che la coscienza e la consapevolezza di che cosa stiamo per affrontare sia diffusa nel modo più largo possibile e questo ovviamente è compito come dico della politica dell'informazione, della cultura, dell'education e così via infatti le questioni che si aprono a questo riguardo secondo me sono quale sarà il bilancio tra il lavoro di coloro che sicuramente saranno necessari se ne saranno sempre di più di lavoratori della conoscenza necessari per portare avanti i nuovi job le nuove esigenze del mercato le nuove esigenze dell'umanità stessa perché l'intelligenza artificiale non si utilizza soltanto per autoriprodursi ma si utilizza e si potrà utilizzare per migliorare le nostre condizioni di vita se no non si capisce veramente perché dovremmo svilupparla secondo me no, si può sviluppare anche per conto suo ma secondo me come nella maggioranza delle delle innovazioni tecnologiche che sono apparse nel mondo l'intento principale era quello di migliorare le condizioni di vita e dobbiamo, credo, pilotarlo questo miglioramento però cosa succederà anche ai lavoratori più qualificati che potrebbero venire sostituiti dalle macchine si lasceranno sostituire dalle macchine o faranno qualcosa per non oppure basterà un investimento massiccio dei governi in formazione, istruzione, educazione superiore eccetera per riqualificare quella parte dell'offerta di lavoro che non può rientrare nell'ambito del lavoro della conoscenza e quindi potrebbero restare i margini e mentre il sistema sociale si adegua a questi cambiamenti e non è una cosa immediata come ovvio sarà necessaria una grossa politica di welfare per appunto sostenere la potenziale disoccupazione di persone che non rientrano immediatamente in questo mercato del lavoro nuovo diciamo così e chi pagherà per questo welfare e al di là di queste politiche di queste necessarie soluzioni secondo me c'è uno spazio importante grande per l'adottare soluzioni di politica economica più efficaci e le politiche che saranno sicuramente politiche sfidanti che favoriscono nuovi modelli di organizzazione del lavoro più flessibili ma capaci soprattutto di redistribuire il tempo di lavoro redistribuire il tempo di lavoro tra più persone possibili cioè non si tratta di come dire andare dietro a quel sogno forse un po' utopico che da Riccardo a Marx a Keynes è stato vagheggiato di liberare dal lavoro la maggior parte degli umani possibili o forse in parte sì ma in parte sarà invece compito di una politica aperta una politica illuminata quello di rendere possibile che tutti si esprimano nel lavoro tutti abbiano un ruolo sociale necessario e utile che tutti non siano messi ai margini e che ci sia meno lavoro forse per i singoli ma più lavori per tutti e questa idea che a me non sembra utopica è quella che coincide con il fatto che la tecnologia non è neutrale ma non è neutrale perché può essere indirizzata non solo perché può essere utilizzata male o bene questo è il mio punto di vista bene grazie grazie molte in realtà poi adesso sul finale ci parlavi proprio di una utopia con una bella U maiuscola che d'altra parte non è che dobbiamo per forza demonizzare forse no? grazie a tutti